L'anguinale è una patologia molto comune, soprattutto nella popolazione maschile, che trae origine da un indebolimento della parete addominale che può dipendere da numerosi fattori, come per esempio un eccesso di peso o uno sforzo fisico molto intenso. Si manifesta tipicamente con una tumefazione a livello dell'inguine, che produce fastidio, dolore e senso di pressione locale. Al Marrilli Hospital, ad occuparsi di questa patologia, è il dottore Medani Abram, chirurgo generale. La diagnosi è semplice perché normalmente il paziente lamenta gonfiore in sede inguinale, che può essere monolaterale o bilaterale. Il dolore è un sintomo che viene riferito per prima. In più possono associarsi sensazioni di nausea o di vomito se l'ernia diventa grande, se viene trascurata. Perciò al primo sintomo, quando c'è un gonfiore in zona inguinale, che si tratti maschio o femmina, bisogna rivolgersi al proprio medico curante, il quale può indirizzare il paziente al chirurgo. Una volta fatta la diagnosi, prima si opera e meglio è, perché il rischio dell'ernia è lo strozzamento. In casi peggiori si può arrivare anche a un incarceramento. Come la patologia è una patologia esclusivamente chirurgica, perché l'ernia non è una malattia, è un difetto della fascia muscolare, perciò va riparata. Prima si fa e meglio è. Quanto dura l'intervento e soprattutto com'è il post-intervento per i pazienti? Allora, l'intervento dura minimo un'ora, un'ora e mezzo, se si tratta di ernie bilaterali. Se sono presenti contemporaneamente la via di accesso o l'indicazione chirurgica è la paroscopica. Ci sono due tipi di interventi in laparoscopia, si chiama TAP o TEP. La TEP è una tecnica che si usa per le ernie bilaterali piccoli, mentre la TAP può essere anche fatta per le ernie grosse o quelle ernie di una certa data datate. La convalescenza, essendo una chirurgia mini-invasiva, ovviamente il dolore è minore, è molto meno, è ben tollerata e la ripresa della propria attività lavorativa, sia si tratta di un'attività lavorativa sedentaria in ufficio, sia si tratta di un'attività lavorativa che richiede un certo sforzo, che può essere l'operaio, che può essere il meccanico, che può essere anche un calciatore o uno sportivo a livello agonistico, dopo una settimana, massimo 10 giorni, può riprendere sia l'attività lavorativa sia l'attività sportiva senza problemi. In più il vantaggio della chirurgia laparoscopica è che nella chirurgia tradizionale ci può essere la recidiva a distanza di anni, mentre l'indice di recidività o la percentuale di recidività nella chirurgia laparoscopica è molto minore. Perciò l'invito che si fa ai pazienti qual è? Mai trascurare, soprattutto i maschi, quando vedono il gonfiore pensano che possa rientrare, ma il gonfiore è classico primo esordio di ernia, perciò prima si va dal medico proprio curante, prima si fa la diagnosi, prima si può intervenire.